Sento parlare della signora Rosiminti, è sempre più bella che intelligente. La prego, presidente la prego. No, non mi preghi, ma io dico che mi sono attaccato di essere cortese con persone che sono sempre cortesi con me. Presidente, io sono una donna che non mi carezza nulla di quello che lei eccepisce. Sono una donna che non è a sua disposizione e mi sento molto grave le affermazioni che lei questa sera ha fatto. E va bene, lei pensa così gli italiani, lei vedrà che gli italiani la pensano in una maniera diversissima da lei. Presidente, mi scusi, quali saranno le conseguenze politiche?